Siamo qui al Teatro Marconi insieme al direttore Felice della Corte, perché finalmente ripartiamo con un po' di spettacoli, siamo felici anche che riparte il Teatro Marconi, diciamo l'impegno e tanto, però siamo qui anche per una cosa importante, fai parte dell'UTR, l'Unione Teatri di Roma, sono ben 47 teatri che si sono riuniti, perché si sono riuniti questi teatri? Per la ragione è la più semplice del mondo, perché avevamo bisogno di un'associazione che ci riunisse e che potesse esprimere quelle che sono le caratteristiche dell'esercizio teatrale, perché molto spesso qual è l'esigenza di riunire gli stessi soggetti in un'associazione? E' quella di poter significare a chi poi ti osserva e come pubblico, ma soprattutto come amministratori, quali sono le peculiarità del settore e mai come in questo caso noi ci ne andiamo conto dell'importanza di questa cosa. Lo vediamo perché molto spesso le norme che vengono espresse, che vengono fatte, sono sì norme che evidenziano un'attenzione da parte di chi ci amministra rispetto ai vari argomenti, ma qualche volta la distanza che c'è tra il teorizzare alcune forme di intervento e quella di metterle in pratica diventa così grossa da rasentare l'incolmabilità. E allora noi in maniera responsabile come associazione lo ricordiamo insomma. Sì, diciamo che questo Covid-19 ci ha tenuti a casa per un certo periodo, quindi ci ha fatto fare una bella e lunga quarantena, però la ripresa sta mandando forse io direi in tilt anche chi ci deve governare, chi comunque chi ci governa e chi deve dare dei suggerimenti per una ripresa uguale per tutti. Un po' come sta accadendo con il decreto del Ministro Franceschini che è uscito il 10 luglio, che fa del teatro una grande distinzione. Si, fa un intervento, il decreto, vedi è quello che dicevo, nel senso che evidentemente il Ministro mostra l'interesse e capisce che c'è un problema, però nell'intervenire poi non si rende conto di quella che è la realtà, forse perché il riferimento che si fa continuamente è al FUS, al fondo unico dello spettacolo, che qualche limite nel tempo l'ha mostrato e per cui non va bene, ma soprattutto non va bene per gestire un'emergenza e questo decreto in sostanza fa delle cose che sono addirittura poi un po' uno simolo, cioè sono in contrapposizione fra di loro, perché finanzia solo i teatri che hanno più di 300 posti, imponendo altri due limiti, il numero di giornate contributive e il numero di recite che uno fa come teatro, dando un limite per le recite a 60, che evidentemente non c'è bisogno di fare grandi conti, è un po' in contrapposizione con le mille giornate contributive, perché voi capite bene che se uno fa 60 giorni di recite, sarà difficile che riesci a fare mille giornate contributive, non è solo questo, in realtà la materia è più articolata, ma l'importante di quello che sto dicendo non è tediare chi può seguire l'intervista, ma è spiegare che c'è una distanza, i teatri sotto 300 posti hanno la stessa dignità dei teatri che hanno più di 300 posti, a volte per la peculiarità, per la posizione fanno anche più spettacoli di quelli che hanno più posti, non è questione della grandezza che fa l'importanza di un luogo, i luoghi importanti sono storici, sono sicuramente grandi teatri che hanno diritto a questa cosa e badate bene che con alcune pieghe del decreto probabilmente c'è anche qualche grande teatro che non riesce ad attingere al fondo, d'altra parte come dimenticare che il teatro nasce anche nelle piccole sale, tutti i più grandi si sono formati, sono diventati grandi nelle piccole sale per poi approdare nelle grandi e disconoscere questo è paradossale, allora si capisce subito qual è l'importanza di un settore, un settore che conosce la difficoltà, la riapertura dei teatri dettata al 15 giugno è un po' anche questa è una sciocchezza, adesso mi spiace usare questo termine, non c'è bisogno di essere esperti di teatro, chiunque ha frequentato il teatro due volte in un anno sa che non c'è andato mai a luglio, agosto, si va all'aperto, ma a luglio, agosto, settembre non vai così in un teatro, la riapertura dei teatri il 15 giugno è un problema, è un grosso problema, evidentemente noi riapriamo, partiamo con l'attività a fine settembre, ottobre, quindi quello che per altri è stata la ripresa finita all'emergenza, chiamiamola così, anche se poi non è finita, le norme restrittive che sono nei confronti dei teatri di attenzione della scuola, più restrittivi che per altre cose, mettono ancora più in difficoltà il settore, il teatro come la scuola è fondamentale per la vita sociale, è vero che se uno non lo frequenta non lo capisce, ma la scuola è importantissima ed ha un senso, un valore che può essere sfruttato appieno solo quando si fa insieme, non via web, non con i sistemi così, la nostra vita è fatta di rapporti, di relazioni, noi impariamo a parlare, impariamo a relazionarci, viviamo e vinciamo le nostre debolezze, solo se possiamo confrontarci di persona, vederci e la scuola lo fa, il teatro è fondamentale, tra le altre cose è un vero delitto che il teatro non faccia ancora parte delle materie di insegnamento, ma questo è ancora un altro argomento, quindi noi abbiamo bisogno di essere sostenuti, perché tra le altre cose fare uno spettacolo teatrale non fa differenza se tu lo fai per uno o per cento persone, lo devi fare tutto, intero, per forza, non è come per l'amor di Dio il salame che ne tagli un pezzo e se non lo vendi oggi lo puoi vendere domani, il teatro lo devi fare tutto, sempre e comunque, nel momento in cui si va in scena ci siamo spettatori, ci siamo cento, succede questo e allora perché la gente si riabitui a frequentare i teatri, c'è bisogno che noi responsabilmente teniamo aperti i teatri quando le norme saranno un po' più chiare, c'è da dire anche questo, ma lo Stato ci deve sostenere perché questo sia possibile, altrimenti come faremo? E si perderà quello che dal punto di vista culturale è un elemento importantissimo, la cultura è il volano del progresso sociale, è fondamentale, è fondamentale e senza questo non si va da nessuna parte e questo è un aspetto, senza contare l'enorme indotto lavorativo che c'è intorno al teatro, perché intorno a un teatro che lavora ci sono gli attori, i tecnici, i costumisti, i scenografi, c'è quello che fa la locandina, quello che fa la pubblicità, c'è una marea, c'è un mondo che gira intorno al teatro, è un lavoro, è un'impresa importantissima che inevitabilmente va sostenuto e allora quel decreto che giustamente vede la possibilità di finanziare il teatro, perché finanzia tenendo conto tra l'altra cosa di elementi oggettivi, perché è il fatturato, noi non chiediamo l'elemosina, noi vogliamo essere aiutati come gli altri. Il fatturato fatto negli anni precedenti, in percentuale va dato come contributo a salvaguardia dell'attività, tenendo conto dei borderò, non tutte le altre cose e soprattutto nel numero di posti, si fa teatro ed è bellissima questa cosa, anche negli spazi più piccoli, non solo quelli sopra i 300 posti. Allora non possiamo che augurarci che presto si ritrovino, si trovino delle soluzioni più adeguate per il mondo del teatro. Basta mettere un altro pochino di fondi su quello che già è stato stanziato e aprire questa possibilità di sostegno a tutte le realtà professionali che operano nel settore da tempo, tutto certificabile, tutto visibile, tutto controllabile e aiutare chi questo lavoro lo fa da sempre. Benissimo, noi ringraziamo Felice della Corte perché ci ha illustrato anche questo decreto, speriamo che veramente il teatro possa ripartire, quindi un grande in bocca al lupo lo facciamo al teatro, certo. Aggiungo solo un'altra cosa, attenzione, lo dico per il grande pubblico, rispetteremo tutte le norme, non c'è dubbio a questo, però sappiate che anche prima del Covid i teatri sono luoghi sicuri, per poter stare aperti hanno bisogno dell'agibilità e che significa che noi dobbiamo tenere sotto controllo le norme, la reazione, tutto quello che è possibile. Venite a teatro, starete meglio. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie.